L'inglese di Cersei Cosmi con l'italiano di Tacopina come si è combinato al telefono? Parla molto meglio lui l'italiano di quanto parli io l'inglese, però è stata una cosa... ma lui capisce benissimo l'italiano insomma. E tu la differenza tra Thousand e Hundred la sai? Più che per il contratto? No, no, non la so, non lo voglio neanche sapere. Non è stata quindi una questione di contratto il contatto rapido fra Gio Tacopina e Cersei Cosmi. Il Venezia da salvare, un allenatore importante e di carisma da portare a Venezia a sostituire Walter Zenga che non è riuscito a portare avanti un progetto pensato e ideato con il presidente qualche mese fa. Un girone completo che non è servito a Zenga per portare Venezia fuori dalla zona retrocessione o perlomeno mantenercelo, cosa che invece viene chiesta a Cersei Cosmi in 11 partite. Una situazione molto delicata dove lui stesso si definisce anche in un modo molto particolare. Quando subentri è già un problema, quando subentri a poche giornate della fine mi è venuto a spuntare a pensare a qualcosa di immediato, cioè c'è un'emergenza, ma qui non ci sono macerie. Però c'è uno specialista perché la quarta volta subentri a fine febbraio, inizio marzo e due in particolare, Trapani-Brescia, hanno avuto risultati notevoli. Sì, Trapani-Brescia, anche Pescara poi fu... Anche lì c'era una situazione molto particolare, però al di là di quelle che sono queste situazioni con le quali vorrei far veramente a meno. Ma ho detto una cosa, quindi ovviamente uno subentro non ci sono macerie, trova un lavoro di due allenatori, quello di Walter ancora più lungo nel tempo che penso va utilizzato, va capito, perché questa è una squadra che ha dei valori. Bisogna capire come mai, io credo che anche gli infortuni abbiano contribuito, però non solo gli infortuni, come mai alcuni giocatori non si sono espressi secondo quelle che sono assolutamente le loro qualità. E quindi hanno questa grande opportunità loro di farmi vedere a me in 11 partite che mi ero sbagliato. A Venezia, Serse Cosmi ha 11 partite davanti per salvare la squadra. Tre delle prime quattro saranno in casa allo Stadio Penzo, dove viene chiesto un aiuto importante da parte dei tifosi. E nello staff si porta, come dice, Bazzani, che è stata una punta del Venezia che poi fu promosso in Serie A e conosce quindi bene l'ambiente. Il nostro convito sarà quello di capire più in fretta possibile in questo momento cosa hanno nella testa i giocatori, quali insicurezze e cercare prima possibile di mettere in campo una squadra di nuovo, non dico non spaventata, perché tanto è inutile, la classifica non la cambia oggi, quindi è quella. Però, insomma, che vada ad affrontare le partite con fiducia, con coraggio e magari con ritrovato entusiasmo, che non per colpa di nessuno, ma per colpa purtroppo della classifica e dell'andamento, non ha.